No! Basta! Via! No! Via! Via! Chiama la polizia! Chiama i carabinieri! Chiama i carabinieri! Le persone muoiono! Oh! No! 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 Signori! 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 Perdoni! Un documento! Grazie! È assurdo! Non viene detto cosa! È un'ipocrisia! Questo negozio brutta i lavoratori in tutto il mondo! E qua a fianco abbiamo l'ufficio nazionale per la presidenza sociale che dovrebbe liberare i diritti dei lavoratori! Quando la Nike fa un fatturato di miliardi... ... 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